e bella a tutti ragazzi stiamo io raga oggi torniamo con un nuovo video sullo shop giornaliero di fortnet raga mancano pochi secondi 2 1 e raga questo è lo shop di oggi no raga l'ho appena letto su praticamente su instagram no raga peccato non ho i vbac per tutto ma è una figata nel 30 per cento scusate raga peccato che non costa poco e anche che senza l'intero bundle non posso non posso singolo comunque è rimasto captain america ah raga degno di maio di maio quindi anche cap comunque abbiamo il ritorno di pesce secco che ricordiamoci quanto costa 2 mila poi è tornato rapace animale da festa velocità bombardiere d'assalto asmodeus opulare l'is voli vabbè, copiere è durato vabbè, ho ancora Lachlan, Hoserfroid, Asambrim, Cane Reus, abbiamo il bundle e offerte speciali, ma dal pass battaglia è la crew di Fortnite, e non so, vorrei una shopper, però non saprei, vabbè, no, no, sto per shopper la mia ballerina, però no, no, e dai, riscattiamo ricompense su salva, e poi ci salutiamo, forza, entrò oggi, ok, raccogli, continua, vabbè, comunque, vabbò, raga, per oggi è tutto, e, raga, non c'è che dire di ritrovarci in un prossimo video, e, raga, ci vediamo domani, adios, ci vediamo domani, adios, a